Il Parlamento degli studenti della Toscana si è riunito in seduta plenaria a conclusione della legislatura 2011-2013. Due anni di lavoro su temi come legalità, pari opportunità, diritti umani, scuole, Europa, cittadinanza attiva, ambiente, conflitti e integrazione. Ma i ragazzi si sono confrontati soprattutto con le istituzioni regionali e con i loro territori. Cioè abbiamo riportato quanto abbiamo fatto nei territori, abbiamo riproposto questa assemblea anche per creare un collante tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Penso chiaramente alle tematiche dell'omosessualità trattate sempre con assemblee, affiancandoci alle commissioni consigliari vere e proprie preposte, dando consigli, dando appunto degli indirizzi che hanno influenzato veramente la politica vera e propria, quella ufficiale e regionale. Nella conferenza stampa conclusiva gli studenti hanno presentato anche alcune delle loro produzioni, come una ricerca sull'orientamento scolastico. Il 30% degli studenti intervistati si è dichiarato indeciso sul proprio futuro. Una pubblicazione sull'attività dello stesso Parlamento, un videospot contro l'omofobia. È un organismo che sempre di più vede il consenso tra la popolazione giovanile per poter partecipare. E devo dire che ha promosso, soprattutto in questi ultimi due anni, delle iniziative ma anche dei prodotti particolarmente importanti che potranno essere davvero propagati e divulgati nelle varie realtà scolastiche della nostra regione.